il rosso blu con il rosso blu potenza il piatto che va a tenere in bocca di vino e quello che noi vincevo Vito, se non ci saldiamo andiamo in Serie B e inizieremo il campionato. Va bene? Anche Zara ha lavorato cose del Grottone. Forza Grottone, Vito forza Grottone. Grazie, Vito. Chi gioca a Sanremo? Chi porta gli occhiali? Chi va sotto un treno? Ciao. Ciao, ciao. Chi ha malattia? Chi va a Portapia? Ciao, Rodino. Forza Grottone, Forza Grottone. Ciao, Marco. Ciao, Marco. Ciao. Ciao, Laura. Ciao, ciao. Ciao, Lucia. Ciao, Lucia. Chi ruba, chi lotta. Chi ha fatto la spira. Ciao. Sono sempre vetro. Mi c'èo è sempre lun medico. Ciao. Claro. Ciao, Lucia. Ci rende la spira. Grazie a tutti.